Di la verità, stai aspettando con ansia Windows 12 e invece no, perché a quanto pare mamma Microsoft ha già preso la sua decisione che sembra essere assolutamente ineluttabile e zitta zitta, quatta quatta, sui canali Insider sta già sperimentando le prime copie di Windows 11 25 H2. Che cosa dici? Andiamo a dargli una sbirciata? Ti senti pronto? Iniziamo! Disclaimer, i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti va? In realtà la notizia ce l'aveva fatta arrivare in maniera neanche tanto velata Microsoft dopo che tutti quanti si erano alzati dal CES 2025, ovvero dal Consumer Electronics Show che si è tenuto a gennaio 2025, in cui Microsoft aveva fatto delle dichiarazioni piuttosto forti, sia per quanto riguarda il futuro di Windows, sia per quanto riguarda il futuro dei nostri computer. Ma andiamo a vedere con ordine esattamente che cosa è successo da gennaio a oggi, perché ce ne sono state delle belle. E partiamo proprio dal CES con questo articolo di Punto Informatico che appunto è datato gennaio 2025, in cui ci veniva annunciato niente Windows 12, Microsoft punta su Windows 11 25 H2. E infatti nel corpo dell'articolo leggiamo proprio che di Windows 12 non c'è nessuna traccia e che invece, a quanto pare, Microsoft non ha nessuna intenzione di abbandonare Windows Windows 11, anzi, si è posta l'obiettivo di rilanciare. E il senso di questo rilancio è stato esposto a chiare lettere proprio da Microsoft in persona a Las Vegas durante il CES 2025. Infatti, in quell'occasione, l'azienda di Redmond ha dichiarato che il PC attuale abbia bisogno di un update o presenti vulnerabilità di sicurezza che richiedono la più recente protezione hardware, ora è il momento di passare a un nuovo PC Windows 11. E questa cosa allude a due fattori fondamentali. Il primo è che Microsoft vuole, come sappiamo, che tutte le nostre macchine Windows 10 vengano abbandonate o almeno decisamente aggiornate a Windows 11, oppure che si proceda proprio all'acquisto di un nuovo PC e magari un Copilot Plus PC. Ma siccome ormai un po' mi conosci e sai che vado sempre a verificare le notizie che leggo, sono andato direttamente sul sito ufficiale di Microsoft, e cioè su Windows Blogs, e sono andato a leggere che cosa dichiaravano per il 2025. Ma francamente mi è bastato leggere il titolo. CES 2025, l'anno dell'aggiornamento dei PC Windows 11. E a questo punto ho capito che non c'erano più dubbi. E da gennaio arriviamo a tre settimane fa, data in cui sono andato a leggere sull'informatissimo Beta News questo articolo, che però, per nostra comodità, andiamo a tradurre in italiano. Che siate pronti o meno, Microsoft sta testando le prime build di Windows 11 25 H2 sugli utenti. Ma come sugli utenti? Non è stato dichiarato da nessuna parte e non c'è nessun aggiornamento che si chiami Windows 11 25 H2. O forse le cose stanno in maniera un po' diversa. L'articolo continua infatti dicendo che potrebbe sembrare che l'ultimo aggiornamento importante, ovvero la 24 H2 di Windows 11, sia appena stato rilasciato, ma l'azienda sta già lavorando a Windows 11 25 H2. Inoltre è disponibile per la prova gratuita sin d'ora. Ma dove? Ebbene, a quanto pare, nel Dev Channel. Ma l'articolo ci chiarisce anche che prima di entusiasmarci troppo, è importante che notiamo che, al momento, siamo ancora nelle primissime fasi di sviluppo. Ma attenzione, questo articolo è di tre settimane fa. Nel frattempo le cose si sono evolute. E infatti l'articolo continua dicendoci che, con il rilascio di Windows 11 Insider Preview Build 26 200 bla bla bla, sul Dev Channel, Microsoft offre ai primi utenti la possibilità di provare le build della serie 26 200. Attenzione a questo 200 perché è importantissimo. Queste, infatti, sono le build che evolveranno in Windows 11 25 H2 e il cui rilascio è previsto per una data ancora da definire, ma nella seconda metà del 2025. E sempre per la serie San Tommaso mi fa un baffo sono andato a verificare anche queste affermazioni su tantissime altre testate di settore, ma devo dire che moltissimi hanno riportato la notizia che è assolutamente confermatissima ancora al giorno d'oggi. Ti cito solo come esempio Windows Blog Italia che titola in questo modo Iniziati i test sul ramo di sviluppo di Windows 11 25 H2? Ebbene sì, andiamo a vedere molto rapidamente qualche ulteriore informazione utile e poi vediamo insieme come fare a procurarci la nuova versione di Windows 11 25 H2 anche se ufficialmente non esiste ancora. Quello che ci viene confermato è che nelle scorse ore, ma ormai sono passate ben tre settimane, Microsoft ha iniziato a testare con gli Insider le nuove build 26 200 bla 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 e lo sta facendo nel canale Dev e che queste build dovrebbero essere associate alla versione 25 H2 ma attenzione, esistono anche delle build più recenti e anche un po' più estreme che sono le 27 bla 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 Ebbene, queste ultime non ti consiglio di installarle anche se la sto testando proprio in questo momento mentre parliamo ti faccio vedere che premendo la combinazione di tasti Windows ed R e andando a digitare all'interno della barra di ricerca WinVR mi compare questo, ovvero che la build installata su questo computer è la 27774.1000 Tuttavia la cosa veramente interessante da notare è che non viene fatto nessun riferimento né alla 24 H2 né alla 25 H2 ponendo questa build in una sorta di limbo ma adesso andiamo a vedere come puoi installare anche tu sul tuo pc una di queste build in beta, possibilmente quelle più stabili ma prima di farlo facciamoci dare un consiglio dallo sponsor del video di oggi che è UDU Ti ricordi di UDU? UDU è un software di gestione aziendale che offre una suite di applicazioni integrate per semplificare i vari aspetti della gestione aziendale tra cui fatturazione, gestione progetti, risorse umane, magazzino, creazione di siti web e molto molto altro Oggi vorrei mostrarti una delle app di UDU che ho trovato veramente utilissima ed adatta ad ogni esigenza, si tratta dell'app progetti Questa app ti consente di creare dashboard dettagliate con fasi personalizzate e quindi attività assegnando così responsabili, scadenze, etichette e stati alle attività per monitorare efficacemente i progressi del tuo progetto L'applicazione per la gestione progetti di UDU ti offre una visualizzazione specifica per ogni esigenza Abbiamo la Kanban che organizza le attività per fase trascinandole facilmente in modo da ottenere una visione ordinata del tuo flusso di lavoro Abbiamo poi la Gant che visualizza le attività su un calendario comprendendo dipendenze e date pianificate Infine c'è l'elenco che ti consente di accedere a una panoramica completa di tutte le tue attività con la possibilità di applicare azioni in gruppo Ma puoi anche collaborare efficacemente Centralizza tutte le informazioni in un unico luogo inviando email, taggando colleghi e aggiungendo note e allegati tramite il chatter Collabora in tempo reale con più colleghi sugli stessi contenuti Condividi il progetto con utenti interni ed esterni controllando i livelli di accesso alle informazioni Accessibilità e costi? Beh, qui viene il bello Pensa che Udu ti offre la prima applicazione gratuita a vita includendo hosting e supporto illimitati Ma la cosa più intelligente in assoluto è linkare tra loro più applicazioni per gestire l'insieme della tua impresa E pensa che l'accesso a tutte le app di Udu è disponibile a partire da soli 11,90€ al mese Vai al link in descrizione per scoprire di più Grazie a Udu per aver voluto sostenere il nostro canale Ma ora torniamo a noi Premiamo nuovamente la combinazione di tasti Windows R Digitiamo WinVR, clicchiamo su OK e vediamo che nel frattempo, mentre Udu ci parlava Siamo passati ad una versione 24H2 neanche aggiornatissima Quindi per aggiornare questo computer utilizzando una delle nuove versioni disponibili sui canali Insider di Windows Quello che dovremo fare sarà innanzitutto portarci qui sul tasto Start di Windows e cliccare sul pulsante Impostazioni Una volta aperte le impostazioni cliccheremo sulla parte sinistra qui su Windows Update Ed andremo ad attivare ben due cose La prima sarà la possibilità di ottenere gli ultimi aggiornamenti non appena questi sono disponibili Cliccando su questo pulsante qui e quindi successivamente andare ad attivare il programma Windows Insider Lo facciamo cliccando e nel momento in cui dovessimo aver disattivato le attività di feedback e diagnostica sul nostro PC Dovremo premere su questo pulsantino qui e andare ad attivarle Fatto questo potremo effettuare l'iscrizione se ancora non l'abbiamo fatta E successivamente l'accesso al programma Windows Insider Nel caso in cui tu non sappia come effettuare l'iscrizione e l'accesso al programma Windows Insider Non ti preoccupare perché ti lascio linkato qui in alto un video in cui ho spiegato tutto quanto per filo e per segno Una volta effettuata l'iscrizione e l'accesso al programma Insider Come vedi ti verrà chiesto di scegliere un canale Il mio consiglio è quello di scegliere il canale beta Quello consigliato anche da Microsoft perché tutto quello che arriva su questo canale è ragionevolmente stabile Io invece frequento normalmente il canale sviluppatori Ma lo faccio solo su macchine virtuali dove intendo testare le nuove feature ovvero le nuove funzionalità di Windows 11 Oppure addirittura il canale Canary che è quello dove ho trovato la build che ti ho fatto vedere all'inizio di questo video Quello che ti consiglio di fare comunque è un bel click sul canale beta Dopodiché recarti su Windows Update e verificare la disponibilità di aggiornamenti In breve vedrai che anche sul tuo computer arriveranno tutti quanti gli ultimi update Come vedi in questo momento sta installando sul mio pc proprio la build 26200 5518 Ovvero quella relativa a Windows 11 25 H2 Ma mi raccomando non dirlo a nessuno E concludendo come diceva Mike buongiorno Permettimi di darti un consiglio a titolo assolutamente personale Se ti piace la vita tranquilla evita l'accesso a tutti i canali per sviluppatori Perché tanto quando ti arrivano gli aggiornamenti Microsoft ti danno già abbastanza problemi così Se invece vuoi essere aggiornato su tutte le ultime novità Puoi accedere tranquillamente come ho consigliato nel corso del video al canale beta Se poi ti piace la vita spericolata alla Vasco Rossi Allora sicuramente i canali dev ovvero quello per sviluppatori e canary fanno al caso tuo Così potrai distruggere la tua macchina esattamente come faccio io Ma veniamo a noi Anzi veniamo ai ringraziamenti del giorno che anche quest'oggi come ogni domenica Verranno effettuati grazie all'ausilio della listarella Carte penna che quest'oggi ci porta i nomi di Carlo Verna Stefano Albini, Mario Cappelletti, Nico Piscedda Che si sono abbonati oppure hanno rinnovato il loro abbonamento al nostro canale E quindi da parte mia il benvenuti o ben rimasti a bordo della community dei gentiluomini Ma attenzione squillo di trombe e rullo di tamburi perché Abbiamo da ringraziare anche Luciano Antinucci, Renato Vellucci, Zico Pio, Antonio Marino, Palma562 e Juan De Dios Cigolini Che si sono sia abbonati ma in qualità di distinti gentiluomini E quindi, cari signori, è un piacere ed un onore togliermi ancora una volta davanti a voi Il mio cappello farlocco Non abbiamo terminato perché ringraziamo anche Fabrizio Fogagnolo, Luciano Noè, Anna Nensi Bertini E Luca Di Gruttola che hanno voluto sostenere la nostra community inviando dei loro generosissimi super grazie Grazie a tutti voi ragazzi per il sostegno e l'affetto E un ultimo ringraziamento incredibilmente ci rimane ancora in tasca Ma lo togliamo subito ed è quello destinato proprio a te Che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti E detto questo, non mi resta che ringraziarti e darti come di consueto appuntamento Alla prossima Iscriviti 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 Grazie a tutti.